Nel tip di oggi vedremo come utilizzare l'assistente vocale Siri dell'iPhone in abbinamento con il Ford Sync. Ovviamente l'iPhone dovrà essere stato preventivamente collegato al Sync della vettura per il normale utilizzo tramite Bluetooth. La radio della vettura dovrà essere necessariamente accesa, ma se vorremmo avere da Siri anche delle indicazioni stradali, sarà necessario avere la radio della vettura in modalità di riproduzione da dispositivo Bluetooth. In pratica quella modalità che mi consente di ascoltare la musica in streaming presente sull'iPhone. Siamo pronti. Per iniziare è sufficiente tenere premuto il tasto Home dell'iPhone per attivare Siri e ripeteremo l'operazione ogni volta che dovremo impartire un comando o porre una domanda. Il comando sarà recepito tramite il microfono della vettura, quindi l'iPhone può restare in tasca o appoggiato nella console centrale. Durante le comunicazioni con Siri, nel display della vettura figurerà una chiamata verso il nostro numero di telefono. Quando l'operazione sarà terminata, sarà sufficiente premere il pulsante di fine chiamata presente sulla razza del volante. Iniziamo. Scrivi a mio figlio che arriverò a casa a luna. Ecco il messaggio per voi, Alice. Dice, arriverò a casa a luna. Vuoi inviarlo? Invia. Ok, invio il messaggio. Manda una e-mail a mia figlia. Qual è l'oggetto dell'e-mail? Prova, invio e-mail con Ford Sync. D'accordo, qual è il testo dell'e-mail? Ciao bella, virgola. Sto provando ad inviare una e-mail con Sync, punto, papi. Ecco il messaggio per voi, Annali. Dice, ciao bella, sto provando ad inviare una e-mail con Sync, papi. Vuoi inviarlo adesso? Invia. Molto bene Claudio, sto inviando il messaggio. Dovrò prendere l'ombrello domani? Non sembra che pioverà domani. Che tempo farà domenica a Torino? Non è prevista pioggia a Torino questa domenica. Ho fame. Ho trovato 15 posti lungo il tragitto. Il più vicino è Pizzeria Ostaria dal Socio Ostaria dal Socio Patrica. È a 1,3 km nord. Vuoi chiamare, ottenere indicazioni, o consultare il prossimo risultato? Il prossimo risultato. Il secondo è Green 3 E-S-A-S-D-Lapogiancarlo-C. È a circa 2,8 e mezzo chilometri est. Chiama. Chiama Green 3 E-S-A-S-D-Lapogiancarlo-C al numero 0,4,4,5. Cerca l'autolavaggio più vicino. E' a circa 2,9 e mezzo chilometri est. Vuoi chiamare, oppure ottenere le indicazioni? Ottieni indicazioni. Ecco le indicazioni per il sbagliario Mario. Adesso il sistema chiuderà automaticamente questa finta telefonata verso il mio telefono. Inizio itinerario per sbagliare Romario. Vai verso sud su via Lago Trasimeno. Ho sonno. Ascolta, perché non metti giù il tuo iPhone e ti schiacci un pisolino? Io ti aspetto qui. Aggiorna il mio stato su Facebook. Cosa vuoi scrivere nel messaggio? Ho deciso, due punti. Oggi sarà una giornata speciale. Punto esclamativo. Ho aggiornato il tuo posto su Facebook. Dice, ho deciso, oggi sarà una giornata speciale. Vuoi pubblicarlo? Pubblicalo. Bene, ho pubblicato il tuo posto su Facebook. Crea nuovo tweet. Cosa vuoi dire? Quando ti ho vista mi stava battendo forte il cuore. Due punti. Mi era appena caduto il cellulare. Punto esclamativo. Ho aggiornato il tuo tweet. Dice, quando ti ho vista mi stava battendo forte il cuore. Mi era appena caduto il cellulare. Vuoi inviarlo? Invia. Ottimo, l'ho inviato. Grazie Siri. Sei molto gentile ed efficiente. Sei troppo gentile. Riproduci musica di Barry White. Bene, sto per riprodurre Barry White. Il sistema automaticamente chiude la finta chiamata. Questo è tutto. 就是 a mani che acqui il tipo giurinato. Polito, il sistema治are corpore.